L'area del Reventino e del Savuto si dota di una importantissima istituzione. La protezione civile crea un centro avanzato che valorizza il lavoro dei volontari e che cerca di salvaguardare il territorio nelle sue varie emergenze, dalla neve agli incendi. E questo è molto importante perché sviluppare la cultura della prevenzione e quella del volontariato sviluppa il capitale sociale e questo è fondamentale all'interno di ogni comunità. Perché la qualità di ogni comunità è data dal capitale sociale che è presente, quindi dai cittadini che dimostrano capacità di collaborare per risolvere i problemi comuni. Questo contrasta la malapianta della criminalità organizzata, contrasta l'apatia ed è uno strumento fondamentale per valorizzare i nostri territori, il nostro ambiente, la nostra natura, le nostre risorse. Noi siamo perfettamente consapevoli che il futuro vedrà in difficoltà i piccoli comuni, le aree interne come quella dove noi abitiamo. Però noi abbiamo ugualmente delle grandi opportunità e delle grandi possibilità. Quello di fare in modo che i nostri punti di debolezza diventino punti di forza. Quindi miglioriamo la qualità del nostro ambiente, la qualità dei nostri servizi, la qualità delle persone che abitano nelle nostre comunità. Questo nel XXI secolo sarà l'arma vincente. Grazie Grazie